Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare la nuova espansione, o per meglio dire, il nuovo set base della nuova season di Warhammer Underworlds, che si chiama Harrow Deep, e vi ricordo essere uno dei giochi competitivi di punta, anzi, addetta chiaramente della GV e il loro gioco competitivo proprio di punta, quindi che porta alta la bandiera della Games Workshop. Si parla di un gioco velocissimo, dove le partite, ma proprio se trovate il vostro amico logorroico, lento, che anche per muovere una miniatura ci sta a due ore e mezzo, la partita massimo esagerando può durare veramente mezz'ora, 40 minuti, ma se proprio è lenta al massimo livello, perché è un gioco laddove una partita in un quarto d'ora, 20 minuti, si finisce e fatto, pensato e ideato per i tornei, soprattutto per i tornei, per una ragione che ora vi dirò in particolare, ma soprattutto per il fatto che le partite sono veloci, quindi anche a fare un torneo in un giorno intero, dove ci sono magari 20-30 partecipanti, si fa tranquillamente nel giro di qualche ora, si sono fatte tutte quante le partite, ed è veramente molto interessante, ma soprattutto molto molto competitivo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. I Warhammer Underworlds, Harrowdeep, che è il nuovo set base, di cui arriveranno poi tutti quanti i pack di espansione, che sono praticamente altre bande, per farvi capire, ci sono da una parte, come in quasi tutti quanti i set base, gli Stormcast Eternals, che vedete qui in blu, che sono tre miniature più un falco, tra l'altro questa è veramente stupenda, come miniature, e da quest'altra parte di qua gli orchi. Warhammer Underworlds è un gioco, come vi ho detto poc'anzi prima della sigla, laddove si vanno a fare scontri fra bande veloci, muovendosi su esagoni, quindi la mappa è fatta da esagoni, dove noi dovremmo andare a muovere le nostre miniature, le nostre piedine, e lo scopo della battaglia saranno molteplici, si vince a punti fondamentalmente, chi ha più punti alla fine vince, ad esempio abbattendo la miniatura di un avversario si guadagna un punto, facendo un obiettivo personale delle carte che avete in mano si fanno un altro uno o due punti, o magari semplicemente anche distruggendo la banda avversaria senza fare obiettivi, gli si buttano tutti quanti giù, quindi si fanno punti, l'avversario non ha più miniature, e la partita è vinta a tavolino. Quindi, come vedete, i modi per vincere le battaglie in Warhammer Underworlds sono molteplici, quindi quello più classico e che mi sento riconsigliare, ma già da regolamento, è di fare gli obiettivi, perché se fai gli obiettivi magari non arrivi manco a combattere e vinci, perché potresti avere un obiettivo che ti dice abbatti una miniatura avversaria, te glielo abbatti, hai fatto un punto, ma magari un obiettivo ti potrebbe dire direttamente arriva nella parte di schieramento dell'avversario, o cerca di conquistare un obiettivo sulla mappa, o cerca di fare qualcosa in particolare. Ci sono delle partite che veramente sono state vinte senza aver, ovvio non devi neanche farteli ammazzare, perché se no già perdendo una pedina dai automaticamente un punto all'avversario, però ci sono partite dove grandi strateghi di questo gioco hanno vinto senza ammazzare nemmeno una pedina avversaria. Quindi è proprio bello il concetto che ci sia una logistica, una tattica molto profonda, per quanto poi fondamentalmente sul campo di battaglia le pedine sono poche, quindi già ce ne hai tre, ne vai a perdere una, vedi che già la tua forza combattiva si ferma, però anche lì è bilanciato, perché come vedete gli orchi sono di più rispetto a loro, sono praticamente quasi il doppio togliendo il falchetto, ma il gioco è molto bilanciato perché ci sono bande, ad esempio quella del troll, dove sono in tre, c'è il troll più due creature che sembrano un fungo, un'altra creatura dei boschi, bellissime tra l'altro, non c'è una singola banda che sia brutta, però sono mediamente più forti, cioè se io un campo schiero, te magari c'hai gli scaven, schieri otto miniature e io uno schiero tre, è normale che le mie tre devono poter far fronte alle tue otto e quindi il gioco comunque è sempre bilanciato, vuoi per punti ferita, vuoi per abilità o cose del genere. E Warhammer Underworlds è veramente, ragazzi, il gioco competitivo, non vi voglio dire una cavolata per o in esattezza farvi comprare qualcosa che magari potrebbe non piacervi, ma Warhammer Underworlds si distingue dagli altri titoli GV per due ragioni. La prima, quella più umana, dove guardiamo tutti, è la parte economica, perché per fare un esercito di Warhammer 40.000 ti costa, esagero, 300 euro almeno per iniziare, poi te ne costa ovviamente di più. Per farti un esercito Age of Sigmar uguale, per farti una banda a Necromunda, ad esempio, ti compri la scatola, è finito. Per farti una banda a Warcry, compri la scatola, è finito. Qui è uguale, qui ti compri la scatola da 25 euro con la banda degli orchi, è questa. Cioè non è che poi ci puoi togliere e aggiungere altro, no, no, la banda è questa, non c'è delle schede per fartele libere. La banda è questa, quella che esce dal pacchettino, quindi se ti al posto di lei ci vuoi mettere un altro Stormcast, dello stesso eguagliandolo in punti, non lo puoi fare. La banda nasce e muore così. Dentro il set però che comprate ci sono le carte della banda più le carte comuni a tutti quanti, quindi carte che potete usare solo con loro e carte che magari potete usare anche con loro, quelle comuni o con qualsiasi altra banda per farvi il vostro mazzo, perché questo è un gioco sia di miniature che di carte. Se volete avere tutte le carte presenti nel gioco, e questa è una furbata a livello di marketing, dovete magari comprare anche loro, perché comprando anche loro trovate le carte di loro, che non potete usare con loro perché sono della banda, ma altre carte comuni che magari vi mancavano con loro. Quindi comprando tutte le bande serve anche a farsi più mazzi. Non è un gioco collezionabile, assolutamente no, cioè quello che trovi nella loro scatola lo trovi solo nella loro, non è che lo trovi casualmente anche in altre, e però è un gioco molto competitivo perché vi dovete inizialmente fare il mazzo di carte, che è quello che dà la possanza, perché il guerriero mandato in corpo a corpo è finito, però magari il guerriero con un oggetto magico, con un incantesimo, o con una carta che gli dà un bonus al combattimento, o invece magari di fare un danno ne fa due e te lo scoppia sul colpo, come vedete cambia veramente tutte quante le tattiche in gioco. Questo set di base è scontato, fine esaurimento scorte, dalla gioco libreria semola 59,99 invece del prezzo che era decisamente più alto, quindi è scontato a 59,99 e per tutti gli ordini un'altra figata, che veramente quando me la mandate a casa sono impazzito, vi manda anche questo pacchettino promo dove ci sono i token fatti in plastica dura e non in cartoncino come quelli che trovate nel gioco, che sono quelli di terreno accidentato, se vi ricordate trappole, terreno impervio, o anche obiettivo. Invece di averceli, che queste sono una figata, perché tra l'altro, no vabbè, guardate il stricco alla spada, questo è disegnato veramente da paura, con tutti i numeri poi intorno, questi qua li trovate in tutte le scatole, ce l'avete sempre però in cartoncino, come avete visto nel corso del video, questo invece ve li manda come promo per tutti gli ordini di Arrodip, direttamente in plastica dura, lucente e fatta veramente da paura. Guardate che spettacolo, anche la qualità e il disegno fanno un migliore effetto a vedere questi sul campo, rispetto a quelli di cartoncino, che magari poi usa usa fondamentalmente, le va anche a rompere. Quindi, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, e come sempre in sovraimpressione, dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato, e in questo caso a 59,99. Usando sempre il codice sconto, che non so se viene applicato anche qui, dovete provare perché il prodotto è già scontato, ma provate, comunque per tutti gli altri ordini, il codice discount Coridan 7, per avere uno sconto del 7%, e per spese superiori ai 79 euro, spese postali gratuite, incluse in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia, in 24 o al massimo 48 ore. Ordinate in 48 ore, e arriva a casa anche fuori dall'Europa. Sempre fornitissima, Gioco Libreria Semola, è un negozio che fa tanto magazzino, se esce una novità, come al tempo Cursend City, magari qualche negozietto, un città ne ordina due o tre copie. Gioco Libreria Semola ne ordinò 20, Dindomitus 20, Gioco Libreria Semola, fa sempre magazzino, ordinando tantissime cose, tantissimi prodotti, e così da averceli sempre pronti, quando poi arriva il cliente, giustamente, che ne vuole una copia. Ragazzi, è il miglior prezzo, ve l'ho detto, 59,99, provate ad usare il codice discount, e, oltretutto, allo sconto, vi arrivano anche i token, come vi ho fatto vedere, Terreno e PEM, e quant'altro, tutti quanti in plastica. Veramente spettacolare, e la nuova edizione di Arrow Deep, non si distingue per regole, magari c'è qualche rifinitura nel regolamento, qualcosina di piccolino, come fanno sempre, ma le regole, ovviamente, sono sempre quelle. È soltanto un nuovo set di base, per la nuova season di quest'anno. Ciao ragazzi, alla prossima!